Non mancano i nodi da sciogliere per il direttore tecnico terramano Alec Bolla al lavoro per ristrutturare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Lamberto Zauli. Non sono operazioni facili quelle vagliate in entrata per gli attaccanti Nicolò Romero, l'airone della Ferral Pisalò, e Andrea Ferretti del Trapani. In un'intervista il DS della Ferral Pisalò, Olli, ha confermato che lo stesso Romero, che è in uscita dal club bresciano, ha ricevuto tante richieste, tra le quali quella del Teramo. Lo stesso Olli ha anche fatto intendere che la Ferralpi insegue Andrea Ferretti e quindi per questa pista è in competizione col diavolo. Ferretti è un centravanti di buona personalità e nella stagione 2013-2014 fece male al Teramo, segnando al Bonolis prima con la maglia del tutto cuoio, poi con quella del Poggi Bonzi, consentendo alle due squadre toscane di portare a casa altrettanti pareggi. Lasciando Trapani vorrebbe riavvicinarsi a casa, nel nord, e questo complica i piani del Teramo. Per il centrocampo il nome delle ultime ore è quello di Luca Berardocco. Il centrocampista mancino, pescarese e cresciuto nelle giovanili del Delfino, potrebbe lasciare la San Benedettese e approdare la corte del diavolo, diventando il metodista da schierare davanti alla difesa, consentendo l'eventuale avanzamento di Carraro, anche se una mediana del genere potrebbe risultare troppo leggera per una squadra che deve salvarsi e che in campo dovrà lottare allo strenuo in ogni partita. Ovviamente la dirigenza del Teramo è al lavoro anche sul fronte delle uscite. Attraverso il Pescara Luca Forte sta per accasarsi in Serie B, al Carpi. Col presidente del Delfino Sebastiani andrà anche verificata la possibilità di far partire Bulevardi, destinazione Perugia, sempre in cadetteria. Nelle ultime ore, sempre dalla B, sembrerebbe esserci un timido approccio della Latina per Alessandro Di Palantonio. Tra i più positivi nell'ultimo mese del Teramo, l'ex tecnico Vivarini sarebbe contento di riaverlo alle sue dipendenze, ma non sarà facile. Sembrano rientrare i propositi di dare il ben servito a Nebil Kaidi. La volontà della società dovrebbe prevalere sulla richiesta del tecnico Zauli, che comunque farebbe bene a sfruttare quella che è una risorsa per il Teramo e non una criticità.